Ma i prezzi, i compensi in fotografia professionale come si determinano? Perché se si trattasse di determinare il prezzo di un lingotto d'oro, della paglia, del grano, di un materasso, esistono prezzi consueti, esistono borse, esistono listini, ma in fotografia dove non c'è un bene che viene venduto ma un servizio e il servizio che si vende è un servizio fornito da una persona di provenienze completamente differenti l'uno dall'altro e che viene utilizzato in maniera completamente differente l'uno dall'altro. In questo caso come si determina? Come già hai avuto modo di capire non esiste il prezzo, proprio perché si tratta di un servizio così vario sia in input che in output, però esistono dei criteri. Mettiamola così, se tu fossi un musicista e venissi pagato per la tua attività potrebbero verificarsi due situazioni. O vieni pagato per andare a suonare a una festa, a un matrimonio, in un locale, in una piazza, per una festa pubblica e quindi vieni pagato per la tua prestazione, oppure, o in aggiunta, sei un musicista che viene pagato per eseguire, sì, la musica, ma anche per averla composta e ti vengono pagati i diritti di utilizzo per la musica che hai composto. Sono due elementi, due facce dello stesso lavoro musicista. Alla stessa stregua il fotografo può essere pagato o perché esegue un lavoro, ma gli viene pagato il lavoro in sé per sé, quindi del tempo lavorativo, a seconda del livello qualitativo che ha, viene pagato in maniera differente, ma è il lavoro che gli si sta pagando, oppure viene pagato il fotografo per il diritto di utilizzo dell'immagine che ha creato. Così come anche nella musica può capitare, cioè capita, che si paghi il diritto di sfruttamento del brano musicale composto da quel musicista. In fotografia, nella normalità dei casi, cioè nei casi, in situazioni più frequenti, si paga l'esecuzione del lavoro e quindi il tempo impiegato. Quando l'utilizzo dell'immagine è un utilizzo di un'immagine già esistente, oppure quando l'immagine viene fatta realizzare da qualcuno che realizza qualche cosa con un contenuto di creatività significativo, oppure, e ciascuno di questi elementi è anche assommabile fra loro. L'impiego è un utilizzo non terra-terra, ma un utilizzo importante per un impiego, per una destinazione d'uso che presuppone dei budget molto significativi alle spalle, tipo una campagna stampa, una campagna pubblicitaria, realizzazione di promozione, advertising in generale, o pubblicazione di libri con diffusione significativa. In tutti questi casi si paga anche o solo, se l'immagine è già stata realizzata, un diritto di utilizzo. Quindi, dividendo il problema in due, uno, devo capire quanto farmi pagare per il mio lavoro, due, devo capire in quale occasioni non sarà solo il mio lavoro essere pagato, ma anche degli eventuali diritti di utilizzo ad essere pagati. Prendiamo la cosa dal punto di vista più semplice, cioè quanto ci si fa pagare il lavoro. Diciamolo, esistono modi di essere fotografi professionisti che presuppongono tariffe anche molto differenti fra loro, perché si può diventare fotografi professionisti con una formazione relativamente breve, o si può dedicare un'intera vita e parecchi sforzi ad essere arrivati là dove si è arrivati. E il fatto che ci sia alle spalle investimenti, operazioni di formazione, rifacimenti del proprio essere fotografi, cioè che ci siano investimenti in generale di denaro, di tempo, di capacità, di creatività, questa cosa determina una variante nel livello professionale del fotografo. In una classificazione delle tariffe che abbiamo fatto al sito www.tariffario.org, dopo ne parliamo brevemente, viene ipotizzata la suddivisione in sette livelli professionali, dal livello 1, che è il livello più semplice, più terra-terra, al livello 7, che è quello che corrisponde alla fama internazionale. Il criterio di fondo è la regoletta di fondo che risolve il problema, quasi sempre, della determinazione del prezzo a tempo, cioè di quanto costa la giornata lavorativa del fotografo, è relativamente semplice. E cioè, ma se tu invece di fare il fotografo, dedicando del tempo, prendendo quel tempo come tempo lavorativo e quindi sottraendolo a altri lavori che avresti potuto fare, dedicando delle energie, dedicando degli investimenti, spendendo dei soldi per farti conoscere, mantenendo l'attrezzatura aggiornata e funzionante, cioè se invece di fare tutto questo insieme di cose, fossi andato al parco a dar da mangiare ai piccioni, e cioè ti fossi occupato di tutt'altro, quali costi annuali non avresti avuto, detto in altri termini? Che cosa spendi per esistere come fotografo? La tecnica per calcolare quant'è il proprio costo a giornata è proprio questa, determinare a tavolino per adesso, in vitro, quindi facendo una simulazione, quali sono i costi che affronti perché esisti come fotografo. Faccio degli esempi, facciamo l'esempio di uno studio fotografico commerciale, normale, se è uno studio fotografico che apre in uno scantinato a Baranzate di Bollate, che è nella periferia terra-terra di Milano, uno studio dove si fa fotografia commerciale, fotografia di moda di basso livello, fotografia in buca, le modelle e così via, hai un costo annuale per l'affitto, hai un costo annuale per le spese di riscaldamento, hai dei costi per pagare il tuo commercialista che, essendo un fotografo professionista, ti tiene la contabilità, hai dei costi minimali per i contributi IMSS, a meno che tu non sia un contribuente minimo, hai dei costi per comprarti l'attrezzatura e per sapere che ha un ammortamento che si spalmerà su 3, 4, 5 anni, l'attrezzatura digitale non dura tutta una vita come era per l'analogica. Se spendi, supponiamo, 25.000 euro per essere attrezzato da fotografo professionista, tieni conto che quei 25.000 euro non sono per tutta la vita, e facendo anche gli ottimisti, 5.000 euro all'anno per tenere in essere, in vita, un'attrezzatura professionale che ne costa complessivamente 25.000, ci vogliono. Hai dei costi per l'assistentato, se ce l'hai, hai dei costi che compensino il fatto che tu stai rinunciando a fare i panini a McDonald's perché tutto il tempo lo dedichi a questo lavoro, hai dei costi per la promozione, un minimo di promozione devi farlo, dei costi per la comunicazione, per girare, per trovare dei clienti, dei costi per la formazione personale e per il mantenere vivo la tua capacità formativa e così via. Se consideri questi insiemi di costi, anche volando molto basso, ti rendi conto che è estremamente facile, cioè normale, che un'attività fotografica professionale si costi addosso qualche decina di migliaia di euro all'anno, che non avresti speso se fossi andato al parco a dare da mangiare i piccioni, cioè se ti fossi occupato di tutt'altro. Quindi, se spendi, supponiamo, 25, 30, 40 mila all'anno, euro all'anno, per esistere come fotografo, significa che quei soldi qualcuno te li deve dare indietro. Lasciamo stare che, fin tanto che si è studenti, fin tanto che si ha un altro lavoro, sia possibile accontentarsi, che so, di 100 euro al giorno, di una mancetta di 100 euro al giorno, che è tutto grasso che cola, cioè io ho le spalle coperte da altre situazioni, se mi danno 100 euro sono 100 euro in più, e quindi mi sta bene. Quando invece svolgi l'attività fotografica come mestiere, non è grasso che cola, è il nutrimento che serve alla tua attività, quello che viene pagato, fuori di metafora, se 30 mila euro di spese normali, fisse, non collegate alla realizzazione di qualche lavoro in particolare, quindi non a una trasferta o la realizzazione di un set specifico, non al pagamento di un fornitore di post-produzione o il trucco e parrucco di un lavoro in particolare, tutte queste spese vengono ricaricate sul cliente, ma proprio a te, i costi che occorrono a te per esistere. Dicevo, se questi costi rasentano i, supponiamo, 30-40 mila euro, devi spalmare questi costi su tutte le giornate lavorative che effettivamente puoi fatturare. Occhio, non le giornate lavorative in cui si lavora, perché saranno 367 in un anno le giornate che lavorerai, cioè nelle quali ti sbatterai a favore del tuo lavoro. Si parla di giornate fatturabili, il che significa che se io lunedì inizio, sistemo l'attrezzatura, vado a parlare col commercialista, vado a cercare dei clienti, martedì faccio la stessa cosa, prendo una telefonata, contatto il cliente, mercoledì definiamo le cose, giovedì faccio uno shooting, questa giornata, giovedì dello shooting, io fatturerò il cliente. Oppure mi sbatto, mi organizzo per trovare clienti e nel periodo di maggio e settembre ficherò un po' di matrimoni, ma poi in un anno i matrimoni che faccio sono 23 e va già bene. Allora, in questa situazione significa che, e quindi in tutte le situazioni professionali, significa che il costo di 30.000 euro, supponiamo, va suddiviso per i giorni fatturabili. Mediamente, diciamocelo apertamente, i giorni fatturabili, cioè che si possono fatturare a qualcuno, che qualcuno accetterà che tu gli fatturi e gli chiedi dei soldi, sono, diciamo, dei 50 ai 70, mediamente. Se spendi 30.000 euro all'anno per esistere e fatturi solamente alcune decine di giornate, ma com'è normale che sia, il costo giornaliero minimo discende da l'importo totale delle spese fisse diviso il numero dei giorni fatturabili. È normalissimo che questo importo sia di 3, 4, 500 euro al giorno. Sembra uno sproposito. Non è uno sproposito, è il minimo che va fatturato quando, svolgendo l'attività fotografica professionale, esisti come professionista che di quello deve vivere, esisti come professionista in competizione, in lizza, con altri colleghi che di questo vivono. e quindi costare 4, 500 euro al giorno per un fotografo commerciale, supponiamo, è poco, è poco perché è una cifra che appena appena può bastare, nei casi più sfigati, a compensare i costi generali. In molti altri casi occorre fatturare al giorno di più. Certo che se si lavorassero, se fatturassero, prendendo anche i soldi, 365 giorni all'anno, prendere 500 euro al giorno sarebbe una manna. Dov'è che si firma? Firmo anch'io, per carità. Ma non è così. Lavori tanti giorni, ne fatturi solo alcuni. Quegli alcuni devono coprire tutte le spese. Quindi, il modo con cui si determina il proprio prezzo aggiornata è la propria valutazione della propria situazione, dei propri costi generali, diviso un'ipotesi di giorni fatturabili, fatturati e incassati all'anno. Totale, x centinaia di euro al giorno come prezzo minimo. Se si lavora, se si accetta di lavorare al di sotto di quel prezzo, si sta facendo una marchetta per la quale, di fatto, si sta pagando per esistere come fotografo. Il che può essere una scelta in certe situazioni di emergenza, o può essere una scelta promozionale. Io decido di lavorare sotto costo quando intelligentemente so che questo mi porterà dei clienti che frutteranno del denaro. E questo è un altro discorso, ho trattato anche in altri video. Ma normalmente sappi che il prezzo di base è quello. Dal prezzo di base giornaliero discende anche tutta la tariffazione, il resto della tariffazione. Cosa significa? Se io costo, supponiamo 400 euro al giorno, un catalogo che richiede tre giornate di lavoro, che io stimo richiede tre giornate di lavoro, costerà minimo a forfait, 1200 euro, cioè 400 euro per tre, 1200 euro spese escluse a forfait. Oppure, se un cliente mi chiede di realizzare uno scatto complesso che mi richieda una giornata di lavoro, quel singolo scatto complesso costa minimo 400 euro, perché è una giornata di lavoro. Oppure, il cliente mi chiede di realizzare degli scatti molto semplici, cioè relativamente semplici, che possono essere fatti a tre o quattro per mezza giornata totale, una decina al giorno, il costo minimo di quegli scatti di still life, supponiamo, o di indossati di moda, è di 40-50 euro, perché è l'importo che mi consente di portare a casa un compenso giornaliero della mia giornata tipo minima, che è di 400 euro nell'esempio. E così via, cioè una volta che ho il mattoncino, unità, costo della giornata lavorativa, da quel mattoncino determino i forfait per i cataloghi, per i lavori in trasferta, per le cose complesse, fatti su più giorni, forfettariamente. Ho il costo unitario della singola fotografia, il cliente che mi chiede una singola fotografia, relativamente semplice, ma che mi porti via mezza giornata, quella foto la deve pagare 200 euro, non perché una foto costi 200 euro, ma perché è mezza giornata. Se in quella stessa giornata il cliente mi dà la possibilità di fare 10 fotografie, quelle foto gli costano 20 euro l'una, anziché 200, perché è un rapporto che discende dal tempo che viene fatto impiegare. Questo per compensare il lavoro, se fossi un musicista, il fatto che vado a suonare alle feste, con la differenza che il fotografo non va a suonare con un pifero e basta, ha alle spalle tutta un'esistenza professionale che si deve mantenere. Per i diritti di utilizzo il discorso è oggettivamente molto più complesso di quello che non si possa affrontare in una chiacchierata video. Diciamo che di fondo il meccanismo è quanto più è importante il budget che sta alle spalle dell'operazione, cioè i soldi che il cliente mette in quella cosa, tanto più è normale, è comprensibile, è corretto, è proponibile che il fotografo di diritti di utilizzo possa chiedere le cifre pienotte. Siccome il discorso è complesso, ti rimando al testo e un pdf liberamente scaricabile che puoi trovare come guida alle tariffe sul sito www.tariffario.org. Questo pdf lo puoi scaricare anche senza accedere, senza fare login. C'è poi tutto un sistema molto smart, molto efficace e efficiente per calcolare la singola tariffa sul singolo diritto di utilizzo a seguito di una serie di domande molto specifiche sulla tipologia di fotografo, sull'uso che viene fatto, su investimenti, sul tipo di cliente e così via, che puoi fare dopo una registrazione gratuita al sito, non sei obbligato a fare niente, ti registri gratuitamente, confermi la tua registrazione e dopo di che con userie dei password che tu stesso hai inventato a tariffario.org puoi avviare il calcolo di un lavoro in specifico e di diritti di utilizzo in specifico. Ciao, questa è una citazione da un video di cartoni che qualcuno conoscerà.